Torna l'ora legale. Nella notte, precisamente alle 2, le lancette degli orologi scattano in avanti di 60 minuti. Si dorme quindi un'ora in meno, ma in compenso le giornate saranno più lunghe. Questa situazione resterà in vigore fino al prossimo 26 ottobre. Il cambiamento consentirà un notevole risparmio energetico, poiché si utilizzerà di più la luce del sole. Se da una parte ci sono evidenti vantaggi per l'ambiente e per il portafogli, dall'altra si potrebbe avere in questi giorni qualche disagio per la salute. Niente di particolarmente grave, va detto, soltanto qualche piccolo scompenso. Parliamo soltanto di un'ora e per la maggior parte della popolazione non si generano grossi problemi, premette il primario di neurologia dell'ospedale Sant'Anna, Marco Arnaboldi. Ci possono essere però persone ipersensibili che possono risentirne e subire qualche lieve alterazione, come la sensazione di sonnolenza durante il giorno. Di solito tollera male il cambio del ritmo sonno, veglia chi soffre di mal di testa, aggiunge il medico, ma tolte alcuni casi specifici, per gli altri le conseguenze sono sopportabili. Qualcuno domani potrà essere di malumore, ma l'importante è recuperare. Il cambiamento avviene nella notte tra sabato e domenica, dice ancora lo specialista, quindi c'è la possibilità di integrare subito l'ora di sonno che è stata persa. Domani intanto il sole tramonterà alle 18.30, ma le lancette dell'orologio segneranno le 19.30. L'ora legale, come detto, resterà in vigore fino al prossimo 26 ottobre. Grazie. 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 Grazie.